L'obbligo di predisporre la relazione di fine mandato è, tutto sommato, di recente introduzione. Vediamo infatti come si faccia riferimento a un decreto legislativo del 2011. Nello specifico andiamo a parlare del decreto legislativo 149 del 2011 con un focus particolare all'articolo 4. Questa disposizione normativa è fondamentale per garantire trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche e inoltre ha l'obbligo di fornire un quadro completo della gestione finanziaria e amministrativa durante il mandato di un sindaco o di un presidente di provincia. Teniamo infatti presente che la relazione, il bilancio di fine mandato viene compilato e prodotto quando oramai il mandato è decorso. Quindi ha un compito riassuntivo al pari, tanto per capirci, di un rendiconto degli enti locali, ha un compito riassuntivo di tutto ciò che è stato fatto nel corso di un mandato. Secondo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 149 2011 vediamo come la relazione di fine mandato debba essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o in alternativa dal segretario generale dell'ente locale, quindi o dal responsabile del servizio o dal segretario. Successivamente, quindi dopo la redazione del documento, lo stesso deve essere sottoscritto entro il sessantesimo giorno antecedente, quindi 60 giorni prima, la data di scadenza del mandato, di nuovo o del presidente della provincia o del sindaco. Questo passaggio è fondamentale per ottemperare a quello che è il dettato normativo e garantire al contempo la massima trasparenza e veridicità ai dati. Una volta redatta e firmata, la relazione deve essere poi certificata dall'organo di revisione dell'ente locale. Quando avviene, anche qua abbiamo una tempistica, quindi la firma e la certificazione da parte dell'organo di revisione deve avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione. Successivamente, nei tre giorni successivi, quindi abbiamo già visto il termine dei 60 giorni e il termine dei 15 giorni, vediamo adesso come entro i tre giorni successivi alla sottoscrizione da parte dell'organo di revisione, la relazione e la certificazione debbano essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Questo passaggio chiude quello che è il ciclo di vita redazionale e di trasmissione del documento. È importante andare a inquadrare come debbano essere conteggiati i 60 giorni. Ci viene in aiuto la Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha infatti chiarito che i 60 giorni devono essere conteggiati dalla data di proclamazione degli eletti da parte dell'adunanza dei Presidenti di Seggio. Questa pronuncia della Corte, questa indicazione, è fondamentale per dare garanzia di comprensibilità e anche della possibilità di rispettare i termini dettati dalla normativa. Tornando al nostro decreto legislativo 149 2011, andiamo ora a vedere il comma 4 dell'articolo 4, in cui si parla del modulo e del contenuto della relazione. Il comma 4 dell'articolo 4 definisce infatti il contenuto della relazione di fine mandato. Oltre ad avere la definizione del contenuto della relazione di fine mandato, abbiamo un qualcosa in più. A differenza della relazione di inizio mandato, il bilancio di fine mandato ha un modello di riferimento. Il modello di riferimento per il bilancio di fine mandato è stato approvato con il decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile del 2013. Abbiamo quindi delle indicazioni ben precise ed è molto importante che la relazione contenga informazioni accurate e dettagliate sulla gestione finanziaria e amministrativa dell'ente durante il mandato. Questo per andare a garantire trasparenza e veridicità ai dati, come già detto in precedenza, e al contempo fornire gli stakeholder, ovvero i cittadini uno strumento di facile leggibilità e al contempo che rendi conti quelli che sono i risultati dell'amministrazione. La legge non entra poi nel dettaglio in merito agli obblighi di pubblicazione. Noi riteniamo che, al pari di altri documenti, anche il bilancio di fine mandato debba confluire nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente, così gli si dà comunque visibilità ed accessibilità. Arriviamo infine alle note dolenti. Purtroppo, per il bilancio di fine mandato, sono previste delle sanzioni per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti. Vediamo come, infatti, in caso di mancato adempimento di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, sono previste delle sanzioni. Sanzioni che possono essere applicate anche a soggetti diversi. Ritorniamo quindi al nostro decreto legislativo 149 2011, quello che sappiamo essere di riferimento per il bilancio di fine mandato. Vediamo come l'articolo 4, questa volta con il comma 6, vada a prevedere un impianto sanzionatorio. Impianto sanzionatorio che si concretizza in una riduzione dell'indennità di fine mandato e degli evolumenti per il sindaco, oppure per il responsabile del servizio finanziario. Diventa quindi fondamentale prendere consapevolezza di quello che è l'impegno derivante dall'obbligo di compilazione del documento e rispetto di tutte le tempistiche che abbiamo visto con la trasmissione conclusiva alla sezione competente di controllo. Quindi vi saluto e buon bilancio di fine mandato a tutti.